Di quanto è stato programmato, Centro Spirituale Frattocchie, attraverso Flora, Guida. Il nostro Spirito è Dio, è parte di Dio, perché Dio ci ha generati con la sua luce di vitalità. Allo Spirito si attribuisce il pensiero che può muoversi a velocità incredibile, materialmente inconcepibile, e lo Spirito può camminare di pari passo con esso. L'individualità incarnata, che pur avendo in sé la limitata possibilità di procedere nella vita terrena con opere e pensieri dettati dalla libertà relativa alla condizione umana, deve, nell'insieme degli intenti, camminare secondo le modalità e le possibilità di quanto è stato programmato prima della discesa nella materia, per eliminare le scorie, o meglio, per alleggerire le proprie colpe. Lo Spirito, pur essendo sempre presente, rimane in contatto con l'essere tramite la coscienza e si fa quasi da parte, lasciando il posto al divenire e al verificarsi delle azioni karmiche. Grazie. 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 Grazie.